Ed eccoci qua, questa è la di radio, cosa succede in città, Francesco Pini che vi parla, 30 minuti di cronaca e quest'ultimo whatsapp che si riferiva alla notizia pubblicata stamattina in Dara Repubblica che poi approfondiremo, ovvero le nuove normative regionali che consentiranno di trasformare, di rendere abitabili anche quei sottotetti che non hanno praticamente il solaio, come si farà il solaio e poi potranno essere resi abitabili. Cercheremo di capire anche quali saranno poi le ripercussioni sulla nostra città. Ma vi diciamo che in questo spazio poi inaugureremo da domani una nuova rubrica, visto il grande interesse che è evidente di scuote il tema dello stadio, appunto proprio sul grande dibattito per realizzare il nuovo impianto sportivo per la Fiorentina. A che stadio siamo? Lo troverete in questo spazio, quindi nei primi 30 minuti di cronaca alle 10 ogni mattina qui sulle di radio, da lunedì al venerdì. Allora però vogliamo tornare stamani con un ospite che ho il piacere di ritrovare Paolo Cochi che è documentarista, regista, scrittore e grande esperto di tutti gli atti processuali e d'indagine che riguardano le vicende del mostro di Firenze. Paolo buongiorno e ben ritrovato sulle di radio. Buongiorno, buongiorno a voi. Perché? Perché naturalmente sono queste le settimane che hanno visto la richiesta di archiviazione per gli ultimi due indagati della lunga scia delle inchieste, delle indagini sul mostro di Firenze. Quindi stiamo parlando di Giampiero Viginanti e del medico Francesco Caccamo. Allora Paolo tu che sei sempre molto attento a partire sempre dai documenti, dagli atti, dalle cose che sono nero su bianche, dalle cose accertate. Mi dicevi che eri molto scettico su questa pista per una serie di elementi, almeno tre. A cominciare dalla questione che riguarda i sopralluoghi di Vigilanti, la sua presenza sui luoghi del delitto. Tu sei andato praticamente a ripescare quelli che erano i verbali, le dichiarazioni rese da Vigilanti e hai evidenziato come in realtà questi sopralluoghi non fossero il giorno del delitto, ma dopo. Certo. No, innanzitutto c'è da dire che questi atti sono relativi al 1985 addirittura, quindi perché il Vigilanti fu uno dei primi indagati, quindi negli ultimi anni ce lo siamo ritrovato come nuovo indagato, ma in realtà lo era già stato, era già stato controllato, quindi sia le armi in suo possesso, le auto che aveva, quindi era già entrato e uscito. Ora di elementi nuovi in questi ultimi due o tre anni io ho letto tutto un po' questo secondo me polvere mediatico perché non ci vedo assolutamente nulla. Per esempio, come accennavi tu, nella sit che fece nel settembre 1985 citando appunto il medico Caccamo, dice che lui andò a curiosare lì, avendo la madre a vicchio, quindi non mi sembra nulla di strano, visto che ci andavano tutti a curiosare lì sul luogo dell'omicidio. Dopo l'omicidio, il giorno dopo? Dopo, dopo sì, lui dice il giorno dopo. E quindi questo è il primo aspetto. Poi l'altra questione su cui ci siamo soffermati molto, però devo dire che anche gli ultimi accettamenti hanno permesso di dirivere, se diciamo si riparte per certi versi da zero con la probabile a questo punto archiviazione della nuova indagine, un passo avanti l'abbiamo fatto, escludendo tutte le ipotesi che portavano una doppia pistola. Sì, la doppia pistola è un qualcosa che era stato ventilato da un vecchio investigatore, ma soprattutto dall'avvocato Vieri Adriani, il quale sosteneva che poteva essere un high standard. Le ultime perizie fatte dal magistrato turco hanno stabilito che era, come si è sempre detto tra l'altro, in trent'anni una beretta calibro 22 serie 71 e quindi non è un high standard. Il vigilante possedeva una beretta calibro 22, ma era una beretta che lui aveva acquistato nell'ottobre 84, quindi sicuramente avulsa le delitti che partono dieci anni prima nel 74, se non nel 68, anzi nel 68 come arma sicuramente e quindi essendo stata acquistata nell'84 ad ottobre, quindi prima dell'ultimo omicidio non può avere a che fare con i delitti del monstro. E poi questa pistola fu anche provata, furono effettuate le prove di sparo e riconsegnata, quindi non mi sembra un elemento che da sottolineare come è stato fatto da alcuni giornali. Si è parlato anche della questione dei ritagli di giornale custoditi per essere abitazioni del vigilante. Tu sei andato a ritrovare le perquisizioni, c'erano ritagli sul mosto di Firenze, ma c'erano anche altri ritagli? Sì, c'erano tanti ritagli relativi anche a dati sportivi, il Corriere dello Sport Stadio, vari articoli su varie situazioni di cronaca e quindi la strage dei Vitalicus e da qui nasce l'idea brillantissima della strategia dell'attenzione, che è una cosa, un muovente assolutamente anche più importante. Però c'erano anche gli articoli sportivi in tutto questo? Sportivi anche di cronaca, quindi in casa sua e in casa della madre. Vigilante si crea la moglie che in casa sua teneva ritagli, che faceva ritagli giornali. Lui dice la moglie, comunque c'erano dei ritagli, dei giornali vecchi anche a casa della madre che abitava vicino Vicchio e Mugello che lui andava spesso a trovare. Quindi anche questo mi sembra un elemento del tutto ininfluente da un punto di vista investigativo. Poi c'è il discorso anche delle auto che si dice fu avvistata un'auto rossa perché il legionario aveva un'auto rossa con i cofani neri però, attenzione, e non era un'alfa, era una fulbia, ma la sera di Vicchio ad esempio. Però in realtà, questo pochi lo sanno, il proprietario di quella macchina che fu vista a Vicchio fu in realtà identificato? Esatto, era un pescatore, c'è anche la targa sul verbale di identificazione, quindi non era l'indagato, non era vigilante, quindi uscì anche un articolo sulla nazione di Mario del Gamba e anche l'auto di Calenzano perché viene presa in considerazione il discorso che l'auto di vigilanti venne vista a Calenzano, ma non è così perché i testimoni parlarono di un'auto, una GT alfa rossa, l'auto di vigilanti era rossa e nera. E quindi c'è ovviamente anche qui delle... E soprattutto la persona dentro la descrivono da una persona stempiata, vigilanti ha i capelli ancora, quindi è un piatto che non sia mai stato. Un'ultima cosa che ci riporta sempre al penultimo dei duplici omicidi della serie, ovvero quello a Vicchio. C'è una telefonata molto particolare quella notte, la notte dell'omicidio, del delitto, una telefonata che avverte i carabinieri di un incidente assagginale. Sì, questo sì, non riguarda vigilanti, l'indagine generale. C'è una telefonata alle 4.28, mi pare, della notte, quindi i cadaveri del delitto di Vicchio sono stati scoperti da una mezz'ora, quindi da poco. Molto inquietante, è una telefonata che è registrata poi in audio, ho raccolto anche questa informazione, è registrata e depositata in procura, quindi se è del mostro avremmo la voce del mostro, dove viene appunto in, diciamo un po' una telefonata di scherno, perché l'interlocutore si dice che c'è un incidente di un autocarro appunto lì sulla Sagginalese, più o meno nel luogo dell'omicidio, i carabinieri vanno a verificare, non c'era nulla. E questa persona però si dice io sono Farini, si capiva che era una telefonata strana, Farini io ho fatto una ricerca, era un protagonista di un fumetto uscito nell'82, nell'82 e sul mostro, diciamo sul, in quel periodo andavano molto in voga questi giornalini, un po' trash, un po' pornografici, e appunto anticipa poi quello che il mostro fa, perché su quel giornalino già nell'82 viene disegnata l'escissione del seno, cosa che fino allora non aveva mai fatto. Ho capito, quindi tu dici potrebbe essere questo Farini che si presentava come un fornaio, insomma, però non c'era nessun panificio Farini in zona, in Mucello, e invece è il protagonista di questo fumetto, quindi tu dici potrebbe essere un chiaro riferimento e quindi quella potrebbe essere anche la voce del mostro. Sì, esatto. È un'ulteriore curiosità abbastanza inquietante che questo personaggio del fumetto, Angelo Farini, muore in un incidente con un autocarro. Quindi, insomma, è abbastanza… c'è da riflettere su questa telefonata, secondo me. Bene. Paolo, poi ci ritroveremo presto, insomma, anche con altri dettagli sul tuo lavoro che non si ferma, eh, non si ferma per cercare… No, sì, no, volevo aggiungere solo un'ultima cosa che appunto a breve uscirà la nuova edizione del libro. Io appunto sto raccogliendo questi dati in proposito, che soprattutto questa ultima indagine… Sì. Poi non ha fatto altro che confermare i dati che già avevamo, cioè la pistola, le perizie… Certo. Quando uscirà quindi la nuova edizione del tuo libro sul mostro di Firenze? Inizio prossimo anno sicuramente. Inizio prossimo anno, quindi avremo modo di risentirci e dare poi la data esatta. Grazie, grazie a Paolo Cochi. Pubblicità torniamo tra poco qui su le di radio.